Ciao a tutti ragazzi, io sono Zisa, benvenuti alla Zisa TV, oggi vi voglio portare un prodotto che non ho mai provato. Stiamo parlando dei tostones, li ho trovati a Lidl e li ho presi. Dietro c'è scritto fried bananas, c'è banana fritta, in realtà non è banana, è platano. Il platano altro non è che il maschio della banana, che nella cucina nordafricana o latinoamericana si usa come salato. Quindi per farla per esempio fritta o per farne tipo a purè e diverse ricette. Adesso l'andiamo a friggere e poi la proviamo insieme. Ragazzi, i nostri tostones sono pronti, assaggiamoli così prima. Devo dire la verità. Se fossero patate schiacciate e fritte avrebbero lo stesso sapore. Se non lo sapete non ci andate manco all'idea che sono i maschi delle banane, quindi sarà più che altro la forma, l'aspetto che a noi sembra strano, ma vi posso garantire che il gusto è quello della patata fritta. Allora, immergiamola. Buonissimo. Sembra di mangiare. Fate finta delle crocchie, solo che invece di avere la forma allungata hanno questa forma qua. Bollite le patate, le schiacciate, le friggete e il gusto è questo. Non ha stentori che ricordano le banane. Quindi ci può stare per provarli, però potete prendere le patate stesse. Sono rimasto abbastanza sorpreso. Pensavo ricordasse più la banana, invece assolutamente no. Sì, è proprio di patata. Ragazzi, io continuo a mangiare i miei tostones. Se il video vi è piaciuto mettete mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi alla Zisa TV e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.